Oggi siamo con la signorina Sofia Scaione, cosa ne pensi della scuola? Questo è davvero un bell'istituto dove vengono promulgati molti progetti come ad esempio corsi di musica, corsi d'inglese, trinity. Quindi consiglio di iscriversi a questo istituto perché dà davvero una bella opportunità. Che programma televisivo ti piace? Il mio programma televisivo preferito si chiama Brave and Beautiful ed è una serie che hanno trasmesso in estate. Consiglio a tutti di vederlo perché ha un bel significato e sicuramente vi intrigherà molto. Qual è il suo cantante preferito e perché? Io ho una cantante preferita ed è Olivia Rodrigo. Perché? Perché mi piace che Vice mi dà la sua musica. Oggi siamo con Angela Cordaro. Angela, cosa fai durante il tempo libero? Ascolto musica, guardo dei film, la tv, leggo. Qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito è Spider-Man ed è prodotto dalla Marlboro, un'azienda americana. Qual è il suo cantante preferito e il suo genere preferito e perché? Il mio cantante preferito è Vasco Rossi. Ho tutti i suoi CD, compreso l'ultimo che è uscito qualche giorno fa. Sono stato a diversi suoi concerti e mi piace perché in tante canzoni mi ci riconosco. Nina, ci troviamo a Villa Franca Sicola. Come ti trovi in questo comune e cosa fai nel tuo tempo libero di bello? Allora, io qui mi trovo molto bene, come se fossi a casa. Nel tempo libero leggo su Wattpad, un'app dove si possono leggere libri, disegno, creo. Qual è il suo film preferito? Il mio film preferito è Marvel Spider-Man, che parla di un ragazzo, Peter Parker, che è stato morto da un ragno.